Verona è una città generosa, soprattutto quando si parla di solidarietà. I donatori di sangue sono oltre 30.000 e numerose le iniziative organizzate dalle associazioni di volontariato. Ma di sangue c'è sempre bisogno. Alle fila dell'esercito di donatori si sono uniti anche i giornalisti di Telearena, Alessia Arotta e Valentina Burati, insieme con Riccardo Verzè, veterano iscritto alla Fidas. Una buona sanità non può prescindere da avere a disposizione tanto sangue di buona qualità. Quindi è un po' un'assicurazione che facciamo per tutti noi. Se noi ci impegniamo a donare sangue, possiamo stare tranquilli che la nostra sanità va avanti e continua ad andare avanti bene. Chi può diventare donatore di sangue? Posso diventare tutte le persone in buona salute, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che abbiano voglia di fare un gesto grande, importante, un gesto utile e che garantisce la salute ai meno affortunati di noi. Il sangue o il plasma raccolto dal centro trasfusionale di Borgo Trento viene inviato al pronto soccorso, alle chirurgie, ai reparti interessati alla cura delle anemie, in oncologia. La richiesta è in aumento e in rischio con l'invecchiamento progressivo della popolazione e col pensionamento di tanti donatori e di non riuscire a soddisfarla. Eppure avvicinarsi alla donazione è semplice. La prima volta il candidato deve compilare un questionario sulla propria storia clinica e su eventuali comportamenti a rischio per la salute, una breve visita medica e un primo esame del sangue diranno se si è idonei a donare. Un investimento per la propria salute e per quella degli altri.